In questa seconda parte della lezione dedicata alle proprietà delle potenze, cominciamo con la presentare alcuni esempi di applicazione e ci concentriamo sulle potenze del 10 perché ci serviranno per approfondire la notazione scientifica. Presentiamo un esercizio sulle potenze del 10. Mettiamo un elenco di operazioni possibili che comprendono moltiplicazioni e divisioni insieme agli elevamenti a potenza, tutti relativi a potenza del 10. Allora, in un'operazione del genere, in una sequenza di operazioni di questo genere, abbiamo un prodotto tra due potenze con la stessa base, poi al denominatore di questa frazione abbiamo un altro prodotto tra due potenze del 10. Ognuno di questi due prodotti dà origine ad una nuova potenza del 10, fra le quali poi viene eseguita una divisione rappresentata nella linea di frazione, per cui basta applicare sequenzialmente le proprietà delle potenze fino a ridurre tutta l'espressione ad un'unica potenza del 10. La prima cosa che facciamo è, riportando la linea di frazione, di trasformare intanto il prodotto tra potenze del 10 presente al numeratore in un'unica potenza del 10. La proprietà che applichiamo riguarda il prodotto tra due potenze con la stessa base. Il prodotto è una potenza di 10, avente per base, quindi sempre il 10, e per esponente la somma algebrica degli esponenti, cioè 5 più meno 4. Analogamente al denominatore abbiamo una nuova potenza di 10, e per esponente la somma degli esponenti meno 4 e meno 8. Quindi meno 4, scusate, e 8, vengono sommati meno 4 più 8. Eseguiamo per il momento l'operazione di somma tra gli esponenti. Quindi sopra abbiamo 10 elevato a 5 più meno 4, diventa 5 meno 4, ovvero 1. Qui abbiamo meno 4 più 8, che è come 8 meno 4. Quindi alla fine abbiamo 10 elevato a 1, che fa 10, e 10 elevato a 4. A questo punto possiamo applicare la proprietà delle potenze riguardanti la divisione. 10, che poi è come 10 elevato a 1, diviso 10 alla 4, diventa una nuova potenza di 10, che ha per base, sempre quindi 10, e per esponente la differenza tra gli esponenti, cioè 1 meno 4, 1 meno 4 fa meno 3, quindi il risultato di questa espressione è 10 elevato a meno 3, che se vogliamo possiamo scrivere nella forma 1 su 10 alla 3, sfruttando l'effetto che ha il segno meno sull'esponente da 10. Proviamo a effettuare qualche altro calcolo con esempi del genere. Abbiamo un'altra frazione, 10 alla 12, per 10 alla meno 27, per 10 alla 9, fratto 10 alla meno 34, per 10 alla 16. Beh, qui ci stiamo azzardando con potenze con esponenti molto più alti. Quindi, quando si hanno davanti delle potenze di questo tipo, cosa che può succedere facilmente in fisica, lavorare direttamente con i decimali diventa complicato, quindi sfruttare le potenze del 10 diventa assolutamente indispensabile. Procediamo come prima, in ordine. Riportiamo la linea di frazione. Lavoriamo prima sul numeratore. Abbiamo un prodotto fra potenze del 10 e abbiamo quindi una nuova potenza di 10 avente per esponente la somma dei tre esponenti 12 meno 27 è 9. Quindi l'esponente qui è 12 più meno 27 più 9. In modo analogo sotto abbiamo 10 elevato a e ancora una volta eseguiamo la somma algebrica fra gli esponenti, cioè meno 34 più 16. Il risultato di queste operazioni è intanto una potenza di 10 con esponente 12 meno 27, allora 27 meno 12 fa 15 col segno meno, quindi abbiamo un meno 15 più 9, questa operazione la facciamo dopo, giusto per chiarezza, e sotto abbiamo 10 elevato 34 meno 16 e 24 meno 6, cioè 20 meno 2 è 18 col segno meno. Meno 18 è il risultato della somma algebrica tra meno 34 e 16. Riportiamo ancora la linea di frazione e abbiamo sopra meno 15 più 9, 15 meno 9 fa 6 col segno meno, quindi abbiamo 10 alla meno 6 diviso 10 alla meno 18. Qui dobbiamo fare attenzione. Adesso possiamo scrivere una nuova potenza di 10 che ha per esponente la differenza meno 6. Grazie. 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 Grazie.